Grazie a tutti. Quanta parole. Sono due articoli. Primo articolo, venti parole. All'alto dell'emissione la moneta nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla banca centrale allo Stato. La parola più importante è la parola accreditata che sostituisce la parola addebitata. Oggi quando nasce un bambino appena nasce 40 milioni di debito. Perché? Perché è una truffa all'origine. Io ho denunciato per truffa, forze in bilancio, associazione a delinquere, usura e istigazione al suicidio. Ciampi e Fazio. E allora sono stato invitato a fare una conferenza all'hotel delle quattro stagioni a Rieti. Ed è venuto il direttore della banca d'Italia locale. È venuto al microfono. Dico i testimoni, presenti il senatore Natali di Ascoli e il senatore Belloni di Rieti. 200 persone in sala. Viene al microfono. Il direttore della banca d'Italia dice, professore di Rieti, le devo far rimprovero. Perché lei ha insinuato che noi della banca d'Italia siamo dei delinquenti. E ho detto, guardi che è assolutamente falso. Io non ho insinuato, io ho affermato che voi siete dei delinquenti. E se lei si ritiene offeso, lei mi deve denunciare per calugna. Perché se lei non lo fa, vuol dire che quello che ho detto è vero. Qua la lotta è mortale. O devo andare in galera io per calugna, o devo andare loro in galera per truffa. Se non è inutile che parliamo dello Stato di diritto. Prendiamo atto che ci troviamo in un regime di usura. Il governatore della banca centrale batte moneta con un costo del denaro del 200%. Perché cipresta è dovuto. Quindi distrugge il 100% di un critico. Che carica altrettanto il 100% di debito. Questo non è solamente usura e truffa. E io glielo ho dimostrato. E quando sono stato chiamato dal procuratore della Repubblica di Roma, Ettore Torri. Ma ho chiamato, ho detto, professore di lei, ha dimostrato l'elemento materiale del reato. Manca il dolo perché è stato sempre così. E allora ho detto scusi. E ho detto eccellenza. Prima di tutto faccio notare che la continuazione del reato è un aggravante, non è un esimente. Quindi mi dice, è stato sempre così. Poi il secondo punto. Io ammetto la buona fede, per carità. Però dobbiamo chiarire fino a quando non ti ho fatto la denuncia. Dopo che ti ho fatto la denuncia, come la mettiamo? Qua il reato si guida. E io ho fatto la denuncia l'8 marzo del 93. Insieme a un pugno di miei studenti. Siamo andati alla procuratore della Repubblica e abbiamo firmato. Perché io penso che la migliore lezione che possa dare un professore ai suoi studenti è l'esempio. E quando lo dà questi esempi, esercita la sua dignità. E la dignità gratuita non esiste. Quando io ho fatto la causa contro la Banca d'Italia per avere l'accertamento di chi è la proprietà della moneta, mi hanno dato tolta e mi hanno condannato a 10 milioni di spesa, che è stata trattenuta su iniziativa della Banca d'Italia, le spese di causa, sul mio stipendio. Io ho preso i fogli con cui mi notificavano l'impignoramento dello stipendio e l'ho messo nella bacheca dell'università. Perché ho detto agli studenti, ecco, io pago. Perché voglio la proprietà popolare della moneta. E chiaro, la dignità gratuita non esiste. Io mi sento fuori di questo tempo. Ecco perché io ho bisogno di cominciare a lanciare dei messaggi che finalmente possono costituire un'alternativa per le nuove generazioni. Ora vai, le nuove generazioni, se noi si evitiamo così, non avranno altra scelta che quella tra il suicidio e la disperazione. Questa verrà se noi non sussideremo alla moneta debito o alla moneta proprietaria. Ecco perché noi abbiamo fatto la scuola di Aquila, che si contrappone a Massit. Massit è moneta debito, noi siamo moneta proprietaria. È una nuova scuola che è nata. Grazie mille! Grazie a tutti